Allora facciamo subito una prova andiamo a sbloccare con il volto vedete il nostro iPhone 10 andiamo a fare una cosa molto 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 grezza che è applicare questi pezzettini di carta di post-it sullo schermo come vedete il look at a questo punto non funziona più perché i sensori sono completamente coperti e vado a mettere il pin ma se io vado ad aprire l'applicazione messaggi con i sensori ancora coperti come vedete posso alzare le sopracciglia fare la faccia arrabbiata, fare ballettare la mia testa da gatto e continuare a parlare davanti alla mia Animoji quindi sostanzialmente abbiamo provato in un modo abbastanza grezzo che in questo caso non sono fondamentali i sensori presenti su iPhone X che basta la fotocamera frontale di iPhone X per far funzionare l'Animoji Grazie